buongiorno a tutti da spellproject.com oggi vi voglio presentare il keylogger per tastiera ora come vedete è molto piccolo questo andrà inserito da una parte verso il il vostro pc e dall'altro lato verrà inserita normalmente la tastiera cosa fa questo keylogger questo keylogger memorizza tutti i dati quindi tutte le battiture di tasti che verranno effettuate dalla vostra tastiera quindi password quindi contenuto della chat contenuto dell'email e tutto è tutto ciò che viene digitato dalla vostra tastiera una volta che tutto viene memorizzato all'interno della potente memoria fino a 2 giga quindi consente anche di conservare fino a 2 milioni di 2 milioni di caratteri praticamente dalla dal dal vostro pc digitando una una serie di tassi che vi verranno detti una key praticamente attraverso la tastiera entrerete dentro il dentro la memoria appunto del del keylogger e potrete andare a leggere tutto ciò che è stato digitato precedentemente quindi questo è l'ideale per il controllo di un pc ed è veramente uno strumento indipensabile per lo spionaggio spellproject.com vi ringrazia e vi invito a seguire il canale ciao